Insomma è chiaro che quando si affronta il Venezia o il Parma che sono squadre blasonate che sono in testa della classifica tutti ci tengono a far bene, insomma per quel rigore di dichiarazioni io sono ciato poco peso, insomma può essere anche una battuta anzi per me è proprio l'esatto contrario, secondo me la Sementesi è un'ottima squadra e mi è molto simpatica perché penso che abbia un tifo e uno stadio da Serie A, per cui noi andremo a fare la nostra partita sapendo che affrontiamo una squadra forte e consci del fatto che per vincere ci vorrà il miglior Venezia però è sempre una partita di calcio e penso che la gente debba venire per divertirsi e vedere del bel calcio giocato